Ciao Federico, siamo grandi amici, ve lo devo dire. Cosa fai qua in fiera del fitness e benessere di Udine? Dici un po'. Allora, diciamo che l'interesse della mia azienda, visitite.it, è quella di promuovere tutte le attività all'aria aperta in Friuli Venezia Giulia. Ed è un po' la risposta che potrei darti Luca, nel senso siamo qua perché bene o male si parla di fitfair, si parla di movimento, si parla di tempo libero, si parla di benessere, quindi tutte cose che comunque sono assolutamente collegate e l'obiettivo è quello di far valere il Friuli Venezia Giulia per tutte le risorse naturali che ha e come possono essere, tra virgolette, sfruttate, comunque è come si può godere di queste stupende... Infatti, infatti devo dire... Si è qua e cerchiamo di girare, di farci conoscere, di promuovere, assolutamente. Allora, devo spiegarvi una cosa, Federico è un grande amico perché praticamente noi dello Sport Magazine vogliamo promuovere lo sport nel territorio, le associazioni che tengono il proprio territorio e con tanta passione portano avanti le loro passioni. Federico ha le nostre stesse idee, quindi ha deciso di puntare sul territorio, portarlo avanti e promuovere, come facciamo noi, le varie realtà che già operano nel territorio. Chi abbiamo qua oggi? Ma io ho approfittato qua oggi per presentarvi, per presentarti e presentarvi una persona che collabora ovviamente con l'azienda, con Visitaite, che oltre a fare un'attività molto, molto interessante, secondo me è una delle più belle, che si possono fare in ragione, ma che sono gusti personali, vi proporverà anche un'anteprima. Ok. E' un'attività molto in friuli, posso presentarlo io? Vai, vai, andiamo, andiamo, ciao, 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 buongiorno, buongiorno, come ti chiami? Alessandro De Santis. Ok, dici un po' cosa fate. Le nostre attività, ma le nostre attività principali, io sono la guida sfeleologica, quindi mi occupo di tutto ciò che è sfeleologia, quindi tutto il sottosuolo, grotte, non grotte, anche cavità artificiali, e poi soprattutto il canyoning d'estate, questa attività ludica, divertente nei fiumi, andiamo a divertirci, a prendere fresco. Il famoso rafting, no? Il rafting è un'altra cosa, ecco, allora, il canyoning ci muoviamo con una muta, camminiamo, scendiamo, saltiamo, tuffiamo, seguiamo praticamente il corso di un torrente con dei salti, con dei dislivelli, ed è estremamente divertente. Mentre invece quando troviamo un fiume più importante, vedi il tagliamento, vedi il fella, vedi i fiumi di questo genere, abbiamo il rafting, quindi proponiamo in Friuli Venezia Giulia anche il rafting. Ecco, è una cosa nuova, la portiamo quest'anno, partiamo con dei percorsi esclusivi, perché abbiamo studiato tutta una serie di percorsi nuovi in Friuli Venezia Giulia, e è un modo diverso di fare il rafting perché oltre a divertirci, a giocare, racconteremo il territorio. Bellissima idea, bellissima idea. Grazie a voi, buon lavoro, ciao, grazie. Bene, che dire? Sempre cose nuove da scoprire e in Friuli tantissime cose nuove da fare. Adesso stiamo arrivando nella bella stagione, si alzano le temperature e ci sono veramente tantissime attività. Io consiglio a tutti di provarne almeno una quest'estate. Cosa ci consigli per quest'estate? Allora, avete appena sentito parlare Alessandro, Alessandro vi ha consigliato due delle attività che io casualmente sono di parte, vi piacciono molto anche a me, il canyoning. Ragazzi, uscite quest'estate, provate un'uscita di canyoning, assolutamente, non ve ne pentirete, provatela con gli amici. Per tutte le informazioni, se andate online, trovate sia il nostro sito visitait.it, sia il sito di Alessandro, che è Canyoning Adventure, avete tutte le informazioni, le date, le uscite. E poi, come vi ho detto, c'è anche questa novità del raft, una revisione di quello che è il classico rafting wild waters, ma sicuramente in Friuli avrà qualcosa di più, assolutamente. Bene, io lo provo, io vengo a provarlo, ve lo dico subito. Prima di questa intervista eri già scritturato per questa cosa. Ok, grazie mille Federico, buon lavoro. Grazie mille, grazie mille.